bene parte no cosa cosa ah ecco perché oh cominciamo bene ma via mostri di merda ma sto qui quindi di merda di mostri di merda via ah già è vero niente white point peccato peccato davvero che figata anche in colpo usare il white point ok grazie una volta si è resa utile adesso ecco chi è scappato scappato no ci sono anche gli suonesi anche qui eh dino dammi un crodino aia mamma mia ma che verso disperazione mamma mia ma un po' vicino lo faccio sono morti tutti tanto povero sfegato mamma mia ma un po' vicino mamma mia ma la multiraccio no 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 però prima il fuggire impulsivo potenziali al massimo ok e siamo a tre armi potenziate al massimo ancora una e dovrai prendere un trofeo se non sbaglio si potenziali quattro armi le quattro armi del tuo inventario e ricevere un trofeo al massimo si intende oh 5 minuti che sono qua in ecromorphia cosa hanno già combinato hanno già arredato la stanza oh oh ora che la fuggire impulsivo è al massimo non mi fate più paura rarrete qui dove sei? dove? dove sei? ma vai assolutando quel coglione che faccio idea dove va? dove cazzo scappi? ecco fuori un altro mordi tutti no c'è qualcuno uff che sorpresa vito vomito ma che roba oh se ci fosse un'economorfi che volessero che volessero unire a casa mia e non li portano di fare neanche entrare perché fischiava che roba cinque minuti che sono qui hanno fatto una roba mamma mia neanche mordi io li inviterei a casa mia neanche se mi dicessero no 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 sicuro non ci uccideremo neanche ma cosa sto dicendo sto dicendo un mucoo di cagare ma cosa sto dicendo? ne sto facendo un mucoo di cagare vado si mai secco perchè rallenti ogni volta che cammini su questa cosa cosa? ti fa schifo dov'è? non c'è ah no eccolo lì ecco qua vabbè mo salviamo ok alla prossima parte del settimo capitolo del tredicesimo capitolo terza eh